Bentornati su Warwell Van, qui c'è Giovannone che sta litigando con delle barre di alluminio. Oggi parleremo di energia solare perché iniziamo a fare il nostro impianto fotovoltaico sul fiat talento di Giovannone. Oggi iniziamo con fissare le barre, tirare qualche bestemmia per vedere se riusciamo ad attaccarle bene senza fare fatica, dobbiamo fare un paio di modifiche, qualche altro da qualcosa e c'è Giovannone che è già nervoso, quindi pay attention. Abbiamo scelto delle barre di alluminio per la facilità di lavorazione perché è più morbide, perché abbiamo dovuto praticare dei fori delle asole per poter riuscire ad attaccare il pannello e avvitarlo con semplicità senza diventare scemi, vero Gio? Sì. Adesso attaccheremo i cavi del pannello solare. Qui c'è un gommino con già una predisposizione di qualche passaggio di qualcosa, non sappiamo bene cosa, ma lo utilizzeremo. Andremo a bucare il gommino, poi col silicone andremo a isolarlo così non entra l'acqua e poi usciremo dal montante e vediamo se far passare tramite canalina esterno, magari passare dietro la copertura. Sì, non vanno belli sotto. Sì, non vanno belli sotto. Collegamento elettrico finito, per gli schemi di montaggio in questo video saltiamo, abbiamo altri video sul nostro canale dove potete andare a vedere come si fanno tutti questi simpatici collegamenti. Mi raccomando continuate a seguirci, mettete un like e accendete anche la campanella che Gesù vi vede. Iscriviti al nostro canale. Iscriviti al nostro canale.